Buongiorno a tutti, siamo qui per la esercitazione numero 10, oggi completiamo la parte di classificazioni assistite, supervised, ci siamo lasciati la scorsa volta esattamente in questa posizione, quindi avevamo fondamentalmente finito di vedere le prime due algoritmi di classificazione che sono quelli di minima distanza e massima verissimiglianza e vedete che in quell'ora e mezza abbiamo creato un sacco di dati differenti, abbiamo fatto le classificazioni, abbiamo visto le rules images, cioè le immagini che rappresentano le misure che sono state effettuate in base alle funzioni discriminanti, le classificazioni, abbiamo fatto una serie di esempi. Siamo a questo punto, allora quello che io propongo esattamente in analogia con quanto abbiamo fatto all'inizio della scorsa esercitazione rispetto alla numero 8, di andare sul menu principale, in file e fondamentalmente di chiudere tutti i nostri file, in modo da ripulire la nostra finestra, però ricordandoci dovevamo arrivati e avendo nella memoria le classificazioni che avevamo salvato, vedete qua esattamente come all'inizio della scorsa esercitazione abbiamo due viste, andiamo col tasto di destra sulla seconda, rimuoviamo la vista e siamo intonsi esattamente all'inizio della scorsa esercitazione. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a aprire un nuovo file, open, e apriamo il file che si riferiva al fatto che avessimo preso i dati dell'immagine dell'Amazonia di Lanza 7, li avessimo calibrati e avessimo fatto la DAS subtraction, quindi fondamentalmente questo insieme qua, quello che avevamo chiamato Amazonas underscore cal underscore DAS subtraction. E carichiamo questi dati, eccoli, questi dati li abbiamo caricati, questa è l'immagine a colori reali, come vi ricordate, questa, quindi vado a centrarla nella nostra vista, faccio un contrastretch gaussiano, giusto per vedere meglio questa immagine, e a questo punto continuiamo a fare la nostra esercitazione. Allora, per fare questa esercitazione abbiamo bisogno di andare a verificare quali siano le possibilità che abbiamo utilizzando nuovi algoritmi di classificazione, ma per fare la nuova esercitazione abbiamo ovviamente bisogno delle nostre region of interest. Per avere le nostre region of interest, che vi ricordate, avevamo salvato la scorsa volta, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fondamentalmente andare qua sul layer manager, tasto di destra, richiamare il menu di new region of interest, eccolo, e a questo punto invece che andare a ridefinire le region of interest, perché le abbiamo già fatte e quindi non abbiamo bisogno di ripeterle, andare nel menu sulla finestra region of interest, andare nel menu file e fondamentalmente cercare di rimportare le nostre finestre. Per rimportare le nostre finestre abbiamo bisogno di andare sul menu open, come è abbastanza ovvio, le avevo chiamate ROI, quindi chiamo queste finestre ROI, le riapro, vedete ci impiega un po' di tempo, vedete che cominciano a comparire le nostre varie ROI, come fare? Vi ricordate se vado qua con questa icona select nest ROI, vi ricordate che all'inizio avevamo preso la nostra ROI di acqua e se vado attraverso il record, cioè delle diversi poligoni che ho definito, vedete, zoomerà in modo da poter verificare tutte le mie nuove ROI, magari zoom così andiamo alla nuova ROI, zoom ancora, ecco, vedete questa è la sesta, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Ok, se vado alla nuova ROI, giusto per farvi vedere, scusate, per esempio deforestato, andiamo sulla prima ROI, sulla seconda, sulla terza, sulla quarta e sulla quinta ROI di deforestato. Ok, le abbiamo tutte, questa è un'immagine nel visibile, quindi nel nostro ROI le abbiamo caricate. A questo punto che cosa vogliamo fare? A questo punto vogliamo andare a verificare come funzionano gli altri nostri due algoritmi di classificazione che abbiamo introdotto nella parte teorica. In particolare vorremmo iniziare con la valutazione all'interno del toolbox, nella folder Supervised Classification, quello che si chiama Maximum Likelihood Classification, cioè il classificatore a massima verisimiglianza. Clicchiamo due volte sul classificatore e arriviamo nella solita finestra che ci chiede quali dati utilizzare. Vedete qua ho una serie di dati ancora in memoria perché non ho mai chiuso la mia applicazione di Envy, quindi continuo ad avere questi dati in memoria. Voi vi ritroverete probabilmente ad avere solamente questo, che è il dato dell'Amazonia calibrato in Darsubtraction, 4000x4000, 6 bande scritte in BSQ, cioè Band Sequential, vi ricordate, di cui scegliamo tutta l'area e tutte le bande. Quindi in una prima fase facciamo questa scelta e diciamo ok. Allora vi ricordate come funziona dalla lezione teorica il classificatore a massima verisimiglianza? Il classificatore a massima verisimiglianza è uno di quei classificatori che viene chiamato, che è stato chiamato nella parte teorica, un classificatore non convenzionale, cioè quello che determina l'appartenenza di una cella a una possibile nuova classe in base a un criterio che è un po' sfumato dal punto di vista tecnico della parola, che implica il fatto che si definisca una possibile probabilità di appartenenza di questa cella alla classe di riferimento, che è stata determinata in fase di determinazione delle region of interest. Quindi fondamentalmente questa è un calcolo di probabilità che sarà determinato in base a una soglia di appartenenza che generalmente è compresa tra 0 e 1, in cui 1 è equivale al 100%, quindi vuol dire che nel nostro caso rappresenta il fatto che la nostra cella di riferimento sia in corrispondenza del massimo della distribuzione della nostra cella, quindi lo vedremo dopo in base all'istogramma della distribuzione dei digital number che comprendono la nostra ROI, mentre questo valore si discosterà da 1 e quindi tenderà a essere 0 quando si distribuisce sulla coda della distribuzione dell'istogramma delle nostre ROI, piuttosto che invece essere assolutamente fuori dalle ROI. Allora, questo lo vedremo dopo, genereremo i dati sulle nostre ROI, però adesso lanciamo il classificatore come prima cosa. Il classificatore, vedete la finestra è sempre molto simile a quella degli altri classificatori supervised, quindi qua dobbiamo scegliere le nostre region of interest. Attenzione che qua compare anche una ROI numero 1 in termini indeterminata, che è quella che è stata definita nel momento in cui abbiamo definito le nostre ROI. non ci interessa assolutamente perché a noi in realtà interessano queste quattro ROI, quindi ho selezionato la prima, ho tenuto schiacciato il tasto maiuscolo e ho selezionato l'ultima, quindi seleziono queste quattro ROI, ok? Senza la ROI numero 1 perché non ha assolutamente nulla. Allora, a questo punto viene definita la probabilità di appartenenza, la probabilità di appartenenza di questo algoritmo di classificazione a massima verissimiglianza, come vi dicevo prima, è un valore che è compreso tra 0 e 1, in cui 1 è la massima probabilità di appartenenza, 0 la minima probabilità di appartenenza. 0,5, cioè il valore 50%, implica fondamentalmente questa probabilità che noi consideriamo dal punto di vista tecnico, come quella relativa per esempio al fatto che noi si giri una moneta e possa diventare testa o croce, cioè 50% di probabilità vuol dire che la probabilità è assolutamente uguale che avvenga una cosa o che ne avvenga un'altra. Quindi ovviamente questa soglia di probabilità deve essere sufficientemente alta e generalmente viene prescritto che questa soglia, come vedete scritto qua, debba essere almeno superiore al 75%. Proviamo a scrivere 0,75 e che questo valore di soglia sia uguale per tutte le diverse region of interest, per le diverse classi, perché vi ricordate, esattamente come nella classificazione apra l'epipedo, questa possibilità, cioè vedete qua, di settare l'opzione multiple values, cioè che per le diverse classi che voglio ricercare, questa soglia possa essere differente. Non è questo il caso, ha sicuramente senso poter utilizzare questa opzione, ma in questo caso generale è molto didattico, scriviamo, battiamo, scriviamo qua, esercitiamo l'opzione cancel perché in realtà non andiamo a cercare valori diversi sulle singole classi, ma lasciamo un valore costante, pari al 75% di appartenenza, quindi siamo in un valore che deve essere compreso in questi intervalli di varianza della distribuzione dei dati che consentono di raccogliere almeno il 75% di valori. Data scale factor lasciatelo uguale a 1, è un valore assolutamente determinato dall'implementazione dell'algoritmo, quindi non modifichiamolo, e scarichiamo i risultati nella nostra directory generale, chiamiamola per esempio in questo caso max underscore likelihood punto dat, che è quella che stiamo facendo, la classificazione che stiamo facendo, e scarichiamo anche le rule image, cioè quindi le rule image le chiameremo max likelihood underscore rules punto dat, ok, quindi scarichiamo tutti i nostri dati anche le nostre rule image anche per questo tipo di classificazione e le salviamo, e scriviamo, diamo l'ok, vengono letti come sempre in tutti gli algoritmi supervised i parametri dell'eroe e poi si procede ad eseguire la classificazione. E a questo punto vedete, la classificazione viene eseguita su questi 16 milioni di celle che rappresentano la mia immagine, 4000 per 4000 nelle 6 diverse bande spettrali. Ed ecco che osserviamo il risultato, vedete il risultato è un risultato, adesso cominciamo a essere un po' più abituati a questo tipo di risultati, vedete il risultato che osserviamo è un risultato in cui vediamo le nostre diverse classi, in cui come sempre nei colori dell'eroe abbiamo in blu l'acqua, in verde la foresta, in ciano le nuvole e con il colore marrone abbiamo le aree deforestate. Vedete che il risultato appare abbastanza ovvio, è un'immagine che è molto sotto classificata perché ha una soglia probabilmente troppo elevata per fare questo calcolo e per cui vedete che la maggior parte dei dati non sono classificati. Se noi di questa immagine andiamo sul layer manager e col tasto di destra sul max likelihood date, clicchiamo col tasto di destra e chiediamo le statistiche, possiamo vedere come si distribuiscono questi dati, vedete abbiamo 5 classi, nel senso che è stata aggiunta la classe numero 0, che è il non classificato e vedete che la classe numero 0 è rappresentata da più di 15 milioni di valori, quindi vuol dire che sui 16 milioni di valori presenti nell'immagine, 16 milioni di celle, 15%, cioè il 94%, come vedete qua, non è stato classificato in base a quella soglia. Gli altri dati, cioè lo 0,8%, 4,1%, 0,5%, 0,09% sono stati classificati nelle nostre 4 classi di pertinenza. Se guardiamo l'istogramma, l'istogramma ci mostra appunto che nella classe numero 0, cioè non classificato, se le clicchiamo col tasto di sinistra e andiamo a leggere in questa posizione, che adesso non compare, vi faccio vedere col mouse, ma che comparirà adesso, vedete abbiamo questi 15 milioni, nel mio caso, 100.3503 celle che non sono state assolutamente classificate, mentre le altre, vedete, sono state classificate in questo modo. Ok, questo è il risultato della classificazione a massima verissimiglianza. Non voglio in questo momento entrare nell'analisi dei risultati. Sicuramente, quello che possiamo dire è che sicuramente questa è una classificazione che sottostima le nostre differenti classi. Vedete che, per esempio, del fiume ne viene presa una parte relativamente piccola in questa zona, mentre non viene presa assolutamente questa parte in alto. D'altra parte, ve l'avevo detto anche nella parte teorica, questa classificazione è una classificazione che, per questi casi specifici, cioè per la possibilità di estrarre superficie delle nostre immagini telerilevate, negli nostri spazi multispettrali, non funziona perfettamente, nel senso che il calcolo di probabilità sulle ROI soffre di alcuni problemi che sono proprio fondamentalmente legati alle classi che stiamo ricercando. Questo perché? Questo perché fondamentalmente, se noi riandiamo nella nostra immagine, questa di originale, calibrate in dark subtraction, e se cliccando col tasto destro andiamo a definire le nostre region of interest, in cui, vedete, noi abbiamo, per esempio, cliccando con questa icona che ci permette di passare alle diverse ROI, se noi per esempio andiamo all'eroi di acqua e chiediamo di computare, cioè di estrarmi le statistiche, che è quello che vi dicevo prima della classificazione, che cosa succede? Succede che questa è la nostra firma spettrale dell'acqua, ma se vado nell'istogramma della, in questo caso, scusatemi, credo, sì, delle diverse bande spettrali, per esempio immaginiamo di prendere l'istogramma della banda 5 dell'infrarosso medio, questa, vedete, è l'istogramma del campione coestratto, questo verde, ok? Quindi vuol dire che una cella generica della nostra matrice immagine avrà una forte probabilità di appartenere a questa particolare ROI, quindi a questa classe, nel momento in cui il suo valore si situa in prossimità del massimo della distribuzione. Questo per la banda 5, ma ovviamente per tutte le altre 6 bande coordinate. Quindi vuol dire che questa regolarità, considerando che questa è la distribuzione generale di tutti i dati delle nostre ROI estratte in banda 5, capite che questo è un problema fondamentale, perché queste sono le altre nostre tre ROI di riferimento, questa è l'acqua e queste qui sono le altre nostre tre ROI in cui presumo che questa sia intorno ai valori 0,6, sia l'area deforestata, questa più grande siano l'area forestata e queste invece siano le nuvole. Quindi vedete che sono tutte differenziate tra di loro, in questo caso l'acqua deve stare qua dentro e questo è un parametro che deve essere, per poter classificare come acqua una determinata cella incognita, questa cella deve avere una riflettanza misurata nel caso di un'immagine calibrata in DAL subtraction, che stia dentro questo istogramma di distribuzione della ROI per la banda 5, ma ovviamente per tutte le altre bande. Come per esempio se io prendo, che so io, la banda 4, eccola qua, deve stare dentro questo istogramma di distribuzione. Ok? Questo non è particolarmente semplice che succeda, per cui ve l'ho detto sin dall'inizio, nella parte teorica, che questo è un problema fondamentale che è relativo fondamentalmente proprio al funzionamento delle nostre classificazioni. Per cui se chiudo questa region of interest e vado a riportarmi su la mia immagine classificata, vedete, nel momento in cui ho selezionato l'immagine dell'Amazonia, vedete, ho selezionato quell'immagine per andarmi a vedere le region of interest, adesso sono ritornato ai risultati della classificazione, questa è un'immagine nella classificazione che ovviamente ha dei limiti. Allora, a questo punto però vorrei vedere che cosa succede, per esempio, per l'acqua, perché questo è sempre il riferimento che abbiamo, relativamente alle rule image. Ok? Quindi andiamo sul data manager, apriamo una delle rule image, per esempio quella dell'acqua, e l'apriamo in una nuova finestra. Ok? Quindi setto qua il tastino che mi permette di caricarla in una nuova vista e carico i dati. E vedete che viene creata di default una vista verticale che include questi dati. Chiudo il data manager, selezionando l'immagine classificata, vado su views e faccio il link delle due viste in modo a potermi muovere con coerenza tra le due, e quindi linko le due viste e dico ok. Ecco, vedete che quindi se osserviamo che cosa succede, quale sarà la funzione discriminante di questo tipo di classificazione? Non sarà altro che la probabilità calcolata per ogni singola cella. Quindi vuol dire che, a differenza della minima distanza, tutte le celle che nell'immagine della rule, che ovviamente in toni di grigio appariranno molto chiare, sono contraddistinte dall'avere un'altra soglia di probabilità di appartenenza. Non a caso vedete che in questo caso l'acqua è molto chiara rispetto a tutte le altre superfici. Vedete che per esempio le ombre delle nuvole sono molto scure, così come in realtà la foresta è chiara, sì, ma molto meno chiara del nostro dato. Quindi se io vado a selezionarmi, cliccando con il tasto di sinistra, la fuse che comprende l'immagine rule, vedete, riquadro in ciano, quindi sono certo che l'ho selezionata, vado nel layer manager, clicco col tasto di destra qua sopra, faccio le quick stats per vedere fondamentalmente l'immagine delle rules dell'acqua come contraddistinta e vedete questa immagine contraddistinta da dei valori estremamente variabili che dipendono fondamentalmente da una soglia di appartenenza. Quindi se vado a vedere per esempio l'istogramma della banda 1, cioè della rules della banda 1, vedo che vedete i valori sono molto molto bassi, quando invece vado a questo massimo vado a verificare che questo valore, vedete, è scritto, è uguale, essere uguale a circa, lo guardo in questo caso, vedete il valore x è circa meno zero e qualche cosa. Ok, quindi questi sono i dati che vengono calcolati in cui evidentemente tutti i valori che mi servono sono in corrispondenza di questo picco, tutti gli altri valori hanno dei valori differenti. In realtà questi valori dovrebbero essere compresi tra 0 e 1, perché questa è la probabilità di appartenenza, però se ancora vado a vedere con il cursor location value un punto per esempio sull'acqua e vado a vedere quanto valgo, vedete che in questa immagine di rules vale 26. È un problema di scalatura, è un bacco che esiste sul calcolo delle rules, in cui è un valore scalato, vedete dovrebbe valere 1, invece questo va vicino a 1, invece vale 26, mentre invece un dato molto scuro, vedete vale meno 12.000, è un dato fondamentalmente che è rappresentato in una scala di valori differenti. Però possiamo ovviare a questo problema sulle rules procedendo come sempre andando sul layer manager, tasto di destra e creando un raster color slice, ok? In cui posso prendere per esempio la rule di acqua, eccola, e creo il mio density slicing, in cui vedete quello che io voglio andare a ricercare è quello che fondamentalmente mi rappresenta i miei dati con valori relativamente alti, cioè questi quindi che vedete compresi nella classe più alta, cioè quelli che per esempio hanno valori positivi, ok? Vedete che qua abbiamo valori da meno 1800 a più 29. Quindi se io chiudo e tolgo tutti gli intervalli e creo un nuovo intervallo per esempio compreso tra 0 e il valore massimo e magari a questo valore, clicco sul colore rosso, gli do un valore blu che secondo me è quello dell'acqua, risettando l'intervallo minimo uguale a 0, ok? E il valore massimo in base a 29, do invio e guardate cosa succede, succede che effettivamente sto estraendo praticamente tutta l'acqua, lo vedete qua, ok? Scusatemi, vado a prendere la mano per fare il pan, vedete che questa è la nostra immagine rule e vedete che dalle rule riesco a estrarre l'acqua in maniera abbastanza ragionevole. Quindi di nuovo le rule image sono dei sottoprodotti delle classificazioni, cioè che riguardano il calcolo numerico relativo alla funzione discriminante, che in questo caso, vedete, sono estremamente più efficienti della classificazione stessa, cioè in particolare se io volessi estrarmi l'acqua da queste immagini potrei usare una classificazione a massima verissimiglianza di cui settare fondamentalmente, di cui andare a prendere una soglia positiva rispetto alle rule image delle singole mie eroi per potermi estrarre tutte le classi differenti. Quindi questo, vedete, è un caso in cui il classificatore in sé ha una bassa accuratezza, almeno sembrerebbe, mentre invece le rules image potrebbero essere utilizzate in maniera estremamente efficiente per estrarre la nostra classe di riferimento. Non faccio questa operazione per tutte e singole le quattro le differenti rules, ma potreste voi fare per gli altri tre casi come esercizio la possibilità di estrarre anche le zone deforestate, la foresta e le nuvole utilizzando valori positivi della rule image di riferimento, cioè quella della singola classe, cioè deforestato, foresta e nuvola, per poter almeno col density slicing estrarre e colorare di un singolo colore tutte le classi di riferimento, perché se lo potete fare con un density slicing, lo sappiamo, perché l'abbiamo fatto in un'esercitazione specifica, potremmo anche utilizzare fondamentalmente che cosa? Un'operazione algebrica per estrarre gli stessi valori. Quindi questo è assicurato che pur dando in questo caso il nostro classificatore dei risultati assolutamente sottostimati, in realtà le rules ci potrebbero aiutare notevolmente ad estrarre le nostre aree di interesse. Chiudo questa immagine del density slicing e a questo punto che cosa vorrei fare? Vorrei provare a fare un'altra classificazione con la maximum likelihood, vedete questa è sottostimata, quindi tenendo selezionata questa immagine riclicco su maximum likelihood classification due volte, in modo che poi il risultato venga rappresentato su questa seconda vista, vado a selezionare di nuovo il mio file di origine, cioè quello calibrato in the subtraction, tutta la scena e tutte le sei le bande, dico ok, vado a selezionarmi solamente le mie quattro classi di riferimento, l'eroe di riferimento, acqua, foresta, nuvola, deforestato, e sulla soglia di probabilità per esempio vado ad inserire solamente 0,6, cioè quindi abbasso la soglia di probabilità e salvo, non salvo le rule image perché le abbiamo già viste, mentre invece salvo il risultato della classificazione chiamandolo per esempio maximum likelihood, ho dimenticato di scrivere likelihood, ma non fa nulla e lo chiamo 1.dat, ok? e salvo questa immagine, cioè quindi salvo il risultato della classificazione, vedete che pur io avendo un computer con poca RAM, abbastanza scarso da questo punto di vista, pur trattando un'immagine relativamente grande riusciamo a fare abbastanza in fretta, quindi vedete che adesso sta classificando ed ecco il risultato, e vedete che quando osserviamo il risultato con una soglia più alta vedete subito che in realtà l'immagine è maggiormente classificata, vedete, ci sono più celle che vengono classificate nella stessa immagine, lo vedete subito che c'è un maggior numero di celle classificate, ok? Quindi se abbasso la soglia avrò un maggior numero di celle classificate. Quindi questi sono i due esempi che facciamo con la classificazione a minima distanza, considerate, scusate, a massima verissimiglianza, in cui adesso abbiamo visto che effettivamente più che la classificazione in sé è molto più interessante trattare le rules image, in questo caso specifico. Finita questa parte, quindi adesso procediamo con le nostre nuove classificazioni. Abbiamo fatto la classificazione con la maximum likelihood, adesso è esattamente come abbiamo proceduto con la spiegazione dal punto di vista teorico, andiamo con la nostra spectral angle mapper classification. Allora vi ricordo che la classificazione, ho cliccato qua due volte, quindi abbiamo come sempre la nostra scelta del file, però prima di iniziare vi ricordo che la classificazione spectral angle mapper, a differenza delle altre tre, in cui minima distanza e parallelepipedo fondamentalmente utilizzano come input uno scatter plot n-dimensionale, in cui il numero di dimensioni è relativo alle bande spettrali utilizzate, mentre invece la massima verissimiglianza funziona usando come funzione discriminante un calcolo di probabilità di appartenenza della singola cella a una determinata classe, la SAM, cioè la spectral angle mapper è l'unica classificazione che tiene, di quelle che abbiamo spiegato, che tiene fondamentalmente in conto della firma spettrale delle nostre region of interest. Quindi fondamentalmente, vi ricordate, quando estradiamo, facciamo il calcolo compute statistics delle nostre ROE in cui vediamo la firma spettrale, la spectral angle mapper per ogni singola cella estrae una firma spettrale corrispondente e va a verificare se assomigli, esattamente come abbiamo spiegato nella parte teorica, a quella di una delle nostre ROE estratte. Quindi in questo caso dobbiamo come sempre definire quale sia il file iniziale e quindi andiamo a definire che il nostro file sia quello calibrato dal subtraction, tutta la scena, se le bande corrispondenti, come sempre. E diciamo ok. Allora, la spectral angle mapper vedete che è implementata in un modo un po' diverso, quindi non compare la finestra in cui dobbiamo mettere i parametri, ma una volta che abbiamo selezionato questi valori, bisogna importare e far calcolare gli autovalori della matrice corrispondente. Non sto a spiegarvi esattamente cosa voglia dire, vuol dire semplicemente che dobbiamo fondamentalmente importare questi valori e li importiamo da dove? Dalle nostre finestre, dalle nostre file di ROE, cioè vedete ROE e VF input file. Da questa finestra, scusate, da member collection, ingrandisco questa finestra, nella funzione import vado a prendere, import questi valori da from ROE, dai valori dalle firme spettrali che abbiamo salvato nel file .ROE. Quindi importo questi valori e vedete che abbiamo sempre ROE1 e ROE2 che sono relativi al fatto che io ho aperto queste finestre il menu delle ROE per due volte di seguito, quindi seleziono acqua e poi tenendo schiacciato il tasto con la freccia verso l'alto della tastiera vado a scegliere deforestato e seleziono le mie quattro classi e a questo punto gli dico ok. E vedete che vengono calcolati tutti i diversi valori che in questa finestra fanno riferimento al fatto che per ogni singola ROE1 vengano calcolati i valori medi che vengano definiti gli intervalli dei valori di riflettanza in micron, scusate, con una serie di altri valori e in cui vengono anche presi in considerazione sia i nomi, cioè il battesimo della nostra ROE, il nome che abbiamo assegnato, cioè quindi l'operazione che abbiamo fatto di estrazione di informazioni a priori e il colore corrispondente in cui l'abbiamo salvata, vedete blue, green, cyan e poi quello che io ho chiamato marrone in realtà qua viene chiamato orange 4, ok? Quindi fatto questo dobbiamo semplicemente cliccare sul tasto apply e vedete che una volta cliccato sul tasto apply compaiono i parametri della nostra classificazione a spectral angle mapper, in cui vedete l'unica cosa che ci viene chiesta e definire questo angolo in radianti. Questo angolo in radianti è un po' complicato e non è chiarissimo la spiegazione che vorrei darvi, però cerco di generalizzarla, nel senso che come avevo detto nella parte teorica è fondamentalmente in questa classificazione viene tenuto conto di quello che quando abbiamo disegnato l'eroia abbiamo estratto le firme spettrali con il compute statistics è un qualcosa di molto simile a una fascia spettrale che per esempio è quella che è contraddistinta dalle nostre due righe verdi intorno alla riga nera che rappresenta il valore medio che rappresenta la fascia spettrale degli intervalli rispetto alla media delle deviazioni standard. Quindi per ogni singola firma spettrale avendo estratto più di una cella nel nostro campione abbiamo un valore di deviazione standard che non è nullo, una media calcolata e quindi i valori più e meno rispetto alla media della deviazione standard definiscono una fascia spettrale che è quella contraddistinta, come vi dicevo, dalle due linee verdi nella nostra firma spettrale estratta col compute statistics. Allora fondamentalmente questo angolo non è altro che la definizione in maniera indiretta, non mi dilungo su questa spiegazione perché non è semplicissima e non sarebbe troppo chiara questa spiegazione a priori, considerate che maggiore quest'angolo maggiore è la dimensione di questa fascia, cioè quindi maggiori sono gli intervalli di deviazione standard. Quindi quando qua vedete 0,10 radianti, se io per esempio agisco inserendo il valore 0,2 radianti è come se considerassi una fascia di deviazione standard un po' più grande e quindi se è un po' più grande vuol dire che tenderò a classificare un maggiore numero di celle perché per ogni singola cella estrarrò una firma spettrale che è caratterizzata ovviamente da un solo valore per ogni singola banda, quindi sarebbe fondamentalmente equivalente al valore medio calcolato perché la media di un valore estratto è uguale al valore stesso, quindi è come se io prendessi questa firma spettrale che è rappresentata dal corrispondente valore della riga nera, cioè la media e verifico se questa firma spettrale stia nell'intervallo di varianza determinato dalle due linee verdi. Se sta lì dentro per tutte singole, per tutte le bande spettrali che utilizzo per la classificazione, allora questa cella verrà assegnata a quella determinata classe. Quindi il criterio è più è grande questo angolo, più sono larghe queste fasce spettrali di riferimento e quindi è più è probabile che io classifichi un maggior numero di celle, quindi immaginiamo di mettere 0,2. L'output result lo mettiamo in un file, lo chiamo per esempio sum.dat, mentre invece non salviamo le rule, le rule sono difficilmente comprensibili nell'esempio della sum e per il momento non le salviamo, se poi avremo tempo più avanti vi dirò magari esattamente cosa vogliono dire. Quindi non salviamole in questo caso, quindi utilizziamo un valore singolo che quindi ovviamente vi ricordate la variabile rispetto a multiple values, multiple values vuol dire che noi potremmo variare questo parametro per le singole ROI che abbiamo utilizzato, mentre invece se usiamo single value utilizziamo lo stesso valore, in questo caso di maximum angle radiant, di queste firme spettrali, le utilizziamo per tutte le diverse ROI di appartenenza. Quindi detto questo abbiamo salvato il file, abbiamo definito questa soglia e clicchiamo ok e cominciamo la classificazione. La classificazione inizia subito perché il calcolo sulle caratteristiche dell'eroe è stato fatto precedentemente utilizzando questo menu. Vede che il menu precedente rimane aperto, questa è una caratteristica di questo classificatore, questi sono parametri statistici che rimangono aperti, quindi ricordatevi di chiudere, ormai la classificazione è stata fatta. Questo è il risultato della classificazione. Vedete questa classificazione, già subito osservando un'immagine a una scala relativamente piccola, qua siamo intorno all'umidione, vedete che sembrerebbe funzionare in maniera abbastanza ragionevole. Effettivamente avevo detto che questo classificatore che si basa sulle firme spettrali, vedete, generalmente ha un funzionamento estremamente efficiente e vedete che questo funzionamento è efficiente relativo al fatto che, vedete, l'acqua viene classificata in grossa misura, eccetto questa parte più in alto perché effettivamente ha una riflettività diversa dal resto, però vedete che fondamentalmente la foresta viene tutta classificata così come vengono classificate, vedete per esempio, tutte queste zone di parte deforestata che sono classificate in maniera molto efficiente, vedete. Quindi una delle cose che non viene classificata è questa parte dell'acqua, di questo fiume che arriva dall'alto e parte di questa centrale, però vedete che il resto viene classificato in maniera molto efficiente, così come vi spiegavo esattamente nella teoria. Questo è uno dei casi di classificatori che funziona particolarmente meglio. Vedete che questo è un esempio in cui c'è una certa parte di sottoclassificazione, cioè alcune parti non vengono classificate, ma cosa non viene classificato? Non vengono classificate i parti delle ombre delle nuvole, ma questo è utile perché vuol dire evidentemente che non riesce a riconoscerle come superficie a sé stanti, estratte da una ROI, quindi da un campione, e quindi da un addestramento del software, mentre invece, vedete, non riesce a riconoscere delle parti di acqua che sembrano essere molto differenti dalle altre. Allora, a questo proposito, quindi, proviamo a fare una classificazione ulteriore. Quindi andiamo ancora sullo Spectral Angle Mapper, utilizziamo il solito, la solita immagine di base, cal di s, con tutte e sei le bande, diciamo gli ok, di nuovo importiamo dai nostri file di ROI, quindi scegliamo acqua fino a deforestato e diciamo ok, facciamo questo calcolo, che è quello che avete visto precedentemente, e a questo punto applichiamo questo risultato al classificatore. A questo punto, invece di usare 0,10, usiamo 0,3, ok? Mettiamo, scegliamo il nome di un file, quindi chiamiamolo sum1.dat ok, e generiamo anche le rule image, cioè quindi chiamiamo queste rule sum1 underscore rules punto dat, quindi generiamo anche le nostre rules image. Ok? E a questo punto ricominciamo a classificare, abbiamo classificato utilizzando delle fasce spettrali un po' più grandi, quindi ampliando questo angolo. Ok? Vediamo cosa succederà e la classificheremo qua. Eccola qua, chiudiamo questa finestra e vedete che magicamente cominciano a riempirsi tutti i buchi. Cioè vedete che qua abbiamo ancora quest'area che non è classificata, perché evidentemente il classificatore la vede come un qualcosa di diverso, però vedete che tutti i buchi che c'erano prima cominciano a riempirsi. Quindi le ombre delle nuvole, vedete, che prima erano rappresentate in questa zona, vado a muovermi verso questa zona, vedete che cominciano a scomparire. Cioè quindi le ombre delle nuvole vengono classificate giustamente come, che stanno sulla foresta, come aree forestate, mentre vedete avete le nuvole. Mentre invece continuano a comparire ancora in questa zona, perché evidentemente in questa zona abbiamo una risposta di riflettività abbastanza miste. Vedete che si stanno riempendo tutte le aree che prima non si erano riempite, tolgo la visibilità qua, per capire come funzionava precedentemente, però qua abbiamo un'altra cosa, scusate non posso farvela vedere. Abbiamo le rule, ok? quindi scusate che tolgo la visibilità, le rule, così vediamo come funzionava rispetto all'immagine precedente. Ok, questa era quella precedente, vedete che qua comparivano dei grossi buchi relativamente all'acqua, mentre invece se, scusate, devo riattivare tutte queste immagini, vedete che qua invece compaiono riempite. Dove non compare è in questo tratto di fiume che arriva da nord, che però vi ricordate ha delle caratteristiche molto diverse. Noi abbiamo inserito anche parti di queste ROI dentro la ROI di acqua, perché volevamo classificare l'acqua, però giustamente se ci basiamo su una firma spettrale, il nostro classificatore ci dice che questa parte di fiume ha una riflettività molto diversa da quest'acqua e quindi non lo classifica perché lo vede come un oggetto differente e da questo punto di vista ritengo che la risposta del classificatore sia molto positiva da questo punto di vista. Ok, andiamoci a vedere come sono fatte le rules image, quindi per vedere come sono fatte le rules image andiamo sul data manager, quindi clicchiamo su questa icona, andiamoci a cercare delle rules image, vedete per esempio quelle della SAM1, quella che è ben definito, quella per esempio dell'acqua, la carichiamo in una nuova vista e carichiamo il dato. Ok? Allora guardiamo come è fatta questa rule image, questa è ciò che stiamo osservando, vedete che l'acqua sembra essere molto scura, quindi vuol dire che evidentemente qua la misura che viene effettuata è esattamente come quella della minima distanza, cioè tutto quello che è simile a quella firma spettrale assume un valore più basso rispetto a qualcosa che è molto distante, andiamo a capire qual è l'unità di misura che viene utilizzata e l'unità di misura, siamo in questa vista, vado sul layer manager, tasto destro, quick stats in modo da vedere qual è il dominio dei valori compresi nella rule image di acqua e vediamo che per esempio questi valori sono tutti compresi tra 0 e 1 e 4 e se vado a vedere l'istogramma di banda 1 che equivale a quello dell'acqua, vedo che tutti i dati che sono compresi intorno al valore 1, sembrerebbero quelli maggiormente rappresentati in questa immagine, per cui tutti quelli, scusatemi se è chiuso, tutti quelli evidentemente relativi alla foresta, mentre invece questo massimo che vedete sta su valori bassi, sembrerebbe rappresentare i dati scuri quindi l'acqua. Di nuovo quindi esattamente come abbiamo fatto prima, su questa immagine clicchiamo col tasto di destra, andiamo a farci un density slicing su questa immagine, sulla rule di acqua del sum1 rules, vedete qua, e dico ok e vediamo cosa succede su queste immagini e vedete che tutto quello che compare nei valori blu, li vedete, effettivamente sembrano essere valori di acqua, quindi vedete i valori compresi tra circa 0,08 e circa 0,3 direi sono valori di acqua, quindi 0,08 e 0,3. Quindi chiudiamo tutti questi valori, creiamoci un nuovo intervallo compreso tra 0,08 come minimo e 0,3 come massimo, diamogli un colore blu a questo valore, scriviamo ancora qua 0,3 e diamo invio e vedete che avendo preso solamente questo intervallo, questa fetta dell'istogramma vedete che sto di nuovo colorando tutta la parte di acqua, vedete, mentre invece non compare questo valore del fiume perché evidentemente ha una firma spettrale molto differente dal resto, però avete visto che queste rule funzionano in maniera in questo caso similare a quella della minima distanza, se volete avere una descrizione di come funzionino andate sull'help per informazione, andate a vedere rule image e avrete una descrizione di come viene calcolato il valore sulle rule image relativamente ai diversi algoritmi di classificazione che abbiamo osservato. Ok, quindi chiudo questa immagine e siamo arrivati a questo punto, direi che abbiamo fatto queste due prove anche sullo spettral angle matter e a questo punto direi che avendo fatto le prove anche su questi altri due classificatori e considerando che nella lezione numero 9 avevamo fatto dell'esercitazione, scusate numero 9, avevamo anche utilizzato i classificatori a minima distanza e a parallelepipedo, adesso nella seconda parte di questa esercitazione numero 10 andremo a fare le valutazioni sull'accuratezza della classificazione. Fatte tutte le diverse classificazioni a questo punto dobbiamo trattare il tema relativo alla valutazione dell'accuratezza delle classificazioni attraverso le matrici di confusione così come abbiamo fatto e abbiamo spiegato nella teoria. Allora per fare questa cosa direi chiudiamo la terza finestra perché sennò non riusciamo più a vedere nulla, quindi vado sul layer manager, rimuovo questo layer in particolare, quindi tolgo questa finestra in modo da averne solamente due e per riuscirci meglio a capire. Allora a questo punto abbiamo tantissimi dati, noi vorremmo fondamentalmente utilizzare l'immagine originale che adesso devo andarmi a cercare, cioè quella su cui abbiamo effettuato il primo, la classificazione, cioè quelli, l'immagine calibrata in dark subtraction che non vedo esattamente, quindi forse la cosa che conviene fare è chiudersi tutti i dati e ripartire dall'inizio in modo così da avere un qualcosa di pulito. Quindi vado nel menu principale, file, tanto abbiamo salvato tutto, chiudiamo tutti i file e dico di sì in modo che si possa chiuderli tutti e possiamo ripartire da capo in modo da essere più chiari. Abbiamo le nostre solite due finestre, vado sulla seconda, tasto di destro, rimuovo la vista in modo da averne una sola. Perfetto, allora a questo punto riprendiamo il nostro file originale, che è quello calibrato in dark subtraction, devo andare molto indietro perché nel frattempo abbiamo creato una serie di dati molto lunga, eccolo qua, amazonascaldsdat. Eccolo il dato che adesso carico, che è quello precedente. Allora, piuttosto che guardare un'immagine nel visibile, che lascia il tempo che trova, andiamo a riaprirci un'immagine in falsi colori. Quindi vado sul data manager, clicco, vado in van selection, così sono sicuro di quello che sto facendo e associo ai tre canali RGB le bande 4, 3 e 2, in rosso vicino, rosso e verde. E carico questo dato nella stessa finestra. Eccolo qua. Ok, perfetto. Allora a questo punto per fare un'analisi dell'accuratezza delle classificazioni ho bisogno di crearmi le mie truth. Cioè che cosa vuol dire truth? Vuol dire di cercare delle zone a terra, dei campioni radiometrici a terra, di cui sono sicuro della loro classe di appartenenza. Per cui che cosa vado a fare? Vado fondamentalmente a estrarmi una serie di ROI che siano delle quattro classiche ho definito in precedenza, però in altre parti delle immagini. Cioè non quelle che ho definito direttamente sull'immagine di partenza, ma in altre zone dell'immagine che mi servono per andare a verificare l'accuratezza delle classificazioni pensando che queste nuove non vengono usate per l'addestramento del software, ma vengono usate per l'analisi di accuratezza. Allora nel momento in cui lo faremo vi renderete meglio conto di quello che stiamo facendo. Allora quindi su questa immagine, su questa che ho aperto in falsi colori, che vedete è questa, 4, 3, 2, clicco col tasto destro e vado a attivare nel menu New Region of Interest. In questo New Region of Interest teoricamente io dovrei avere anche tutte le altre ROI, ammesso che le abbia caricate. Quindi potrei fare una cosa del genere. Potrei andare a disegnare delle ROI, non so dove ho preso le altre, quindi non le apro neppure, e vado a prenderle in qualche altra zona dell'immagine. Quindi che cosa faccio? Andiamo in ogni caso a vedere cosa abbiamo fatto precedentemente. Quindi vado nel menu del Region of Interest, File, e apro le mie Region of Interest. Questo che si chiama ROI. Ok? Per cui vedete qua ho delle diverse Region of Interest e mi chiede su quali layer andarle a prendere. le voglio visualizzare su questa immagine, su questa che vedete viene chiamata una. Ok? A questo punto verranno caricate ed eccole che le vediamo. Ok? Quindi a questo punto vi ricordate che adesso posso passare da una ROI all'altra e vedete che la prima ROI che avevamo selezionato era quella di acqua, questa rappresentata in blu. Allora che cosa faccio adesso? disegno delle nuove ROI. Ok? Quindi gli dico new ROI e questa nuova ROI la chiamo per esempio acqua, scusate che devo scriverlo direttamente sulla mia Region of Interest. Ok? Quindi questa nuova ROI la chiamo, non riesco a scrivergli sopra, scusate, ok, adesso ci riesco, la chiamo acqua underscore truth, cioè l'acqua su cui voglio andare a fare il mio esempio. E questa acqua la disegno esattamente e la coloro nello stesso colore precedente. E dove vado a prendere questi poligoni? Li vado a prendere in altre zone dell'immagine che non siano quelle che ho già utilizzato per fare il mio addestramento. Quindi per esempio vado qua e mi disegno una prima ROI qua, stando lontano dai bordi. Ecco qua. Vado per esempio in quest'altra zona in cui ne prendo un'altra più piccola qua. Ok? Mi muovo sull'immagine per andarle a prendere in altre zone. Per esempio vado a prendere un'altra zona qua dentro. Ok? Piuttosto che andarmi a prendere e mi muovo altre ROI dove avevo estratto l'acqua precedente. Qua devo zoomare un po' di più perché se no non riesco a prenderle bene. Ok? Quindi vado a prendermi una ROI su questo canale, su questo fiume qua e chiudo e vado a prendermi una ROI per esempio in questa zona. Ok? Tutte zone che non avevo precedentemente preso. Ok? Queste sono le mie aqua truth. Ok? Quindi a questo punto rizzoomiamo indietro e passiamo, scusate ho zoomato troppo, vado a ricentrarmi l'immagine e quindi vado di nuovo qua e seleziono una nuova area. Una nuova area, se non sbaglio, avevamo selezionato come altra ROI, quindi clicco nuova ROI qua e seleziono come nuova ROI per esempio la ROI foresta underscore truth. Cioè adesso vado a prendermi aree forestali che qua vi ricordate avevamo disegnato in questo verde molto brillante. Quindi vado in nuove ROI qua, in zone che non avevo preso prima, disegno parti di foreste qua, ok? Vado indietro e vado a prenderle in zone che non avevo già considerato prima, cioè lontano dalle aree in cui avevo fatto il training prima, quindi ROI diverse. Vedete anche in questo caso vado a prendermi delle aree in altre zone, per esempio qua, in questo caso posso anche essere meno preciso nella definizione delle aree, nel senso che in ogni caso, vedete vado a prendere magari qualcuna in mezzo alle nuvole qua dentro, in modo che così abbia un esempio più chiaro, ok? Vado a fare una nuova ROI che si chiama deforestato underscore truth, ok? Disegno in quello che io pensavo essere il marrone, che è questo se non sbaglio, che in realtà poi alla fine abbiamo scoperto essere un orange 4, ma non è tanto questo, non è un grosso problema. Vado per esempio a prenderle in zone diverse, tipo qua, ok? Per esempio qua, stando lontano da quelli che sembrano essere sentieri o strade, ok? Vado ancora qua in alto, a cercare, vedete qua ne avevo presa un'altra, magari ne prendo una di queste, ecco una di queste che mi sembra abbastanza chiara, che è vicino all'altra che ho preso come campione, vedete questa l'ho presa qua e questa la prendo qua, e poi vado a prenderne per esempio una qua in mezzo, ok? Questa qua, ok? A questo punto creiamo un'altra nuova ROI, questa la chiamerò, sono quelle relative alle nuvole, quindi la chiamiamo per esempio nuvola scusate, nuvola underscore truth e avevamo dato il colore ciano, eccolo qua, quindi a questo punto vado a cercarmi delle nuvole dalle varie parti che non abbia già preso precedentemente, ok? Per esempio vado qui a sud, eccole qua, questa è la prima truth che prendo qua, e consentitemi di spostarmi così faccio più in fretta, vado a prenderne qualcuna qua, eccola qua, questa per esempio, stando lontano dai bordi, mi muovo ancora e vado a prenderne altre due in questa zona, una la prendo qua, su quest'area sufficientemente grande qua, ok? E un'altra vado a prenderla ancora più a nord, magari qua, in prossimità di queste zone qua, eccola qua, e prendo su questa nuvola qua e chiudo. Ok, abbiamo finito di disegnare delle nuove ROI che rappresentano esattamente le stresse classiche che abbiamo preso precedentemente, però le considereremo utili per fare il nostro analisi di qualità. Avendo disegnato queste nuove ROI, salviamo, e quindi vado nel menu principale di Region of Interest, gli dico di Save As, e a questo punto voglio salvare solamente le truth, cioè quindi acqua, foresta, deforestato e nuvola, non le altre quattro. Le vado a scegliere e le chiamo ROI underscore truth. punto, vi ricordo che qua bisogna mettere XML, ok? Do invio e salvo le mie ROI, ok? Benissimo, ci siamo. A questo punto che cosa dobbiamo fare? A questo punto dobbiamo fare l'analisi relativa all'accuratezza della nostra classificazione. Posso chiudere il menu del Region of Interest, vedete qua ho sul Layer Manager le nostre quattro truth e anche le altre. Queste altre classi, cioè questa, fino a questa classe qua, cioè il deforestato per esempio, clicco col tasto destra e la rimuovo, cioè la tolgo direttamente dal Layer Manager, così come rimuovo nuvola, così come rimuovo foresta, così come rimuovo acqua e così come rimuovo questa ROI punto 1 che si è aperta nel momento in cui ho aperto il gestore delle ROI. E vedete, ho qua solamente le mie nuvola, deforestato, foresta e acqua, truth, cioè quindi quelle che utilizzerò per fare l'analisi di accuratezza. A questo punto l'analisi di accuratezza viene fatta su delle classificazioni che ho già eseguito e questa analisi di accuratezza, scusate, vado sul toolbox, chiudo il supervised, sta in questo menu di post classification perché è un'operazione che faccio in post classificazione e vedete che in questa post classificazione, ingrandisco questa finestra, abbiamo confusion matrix, using ground truth ROIs e using ground truth images, ok? Oppure, generate, oppure, cioè queste due opzioni, per cui fondamentalmente quello che noi dobbiamo fare è cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare una confusion matrix using ground truth ROI che è quella che abbiamo assolutamente fatto in questo momento. Per fare questa operazione però dobbiamo aprirci le nostre immagini classificate, perché che cosa succederà? che dalle nostre immagini classificate in cui abbiamo definito le nostre quattro classi verranno prese queste ROI, cioè le celle che appartengono alle ROI truth e si va a verificare, l'algoritmo andrà a verificare, quante di queste celle in quelle determinate classi sono state associate alle giuste classi di riferimento. Quindi è necessario in ogni caso aprire le diverse immagini classificate. Per aprire le immagini classificate, vi ricordate, le avevamo tenute salvate, andiamo in file, open, e io comincerei a caricare la prima immagine che abbiamo generato, che era quella che si chiamava mindist, min underscore dist punto dat. Ok? La apro qua, questa è l'immagine, vedete, vi ricordate la primissima che abbiamo fatto, la metto in centro, e a questo punto vado in confusion matrix using ground truth Royce. Ecco qua. Quindi che cosa prendo? Prendo l'immagine che ho appena aperto, cioè questa mindist punto dat, eccola qua, e gli dico ok. E a questo punto vedete che io, avendo tenuto solamente sul layer manager le mie nuvole deforestato, foreste, acqua, truth, faccio l'associazione. Quindi, acqua, truth, sarà matchata con quella che veniva chiamata acqua, la foresta con foresta, nuvola con nuvola, deforestato con deforestato. Quindi queste sono le ground truth, quelle che ho cercato, e verranno matchate con le altre. Ok? Quindi, se io dico ok, avrò questo match. match, e in questo match, vedete, viene generata questa matrice di confusione, in cui l'output, così come settato di default, verrà dato sia in termini di pixel, cioè di numero di celle, che di valori percentuali, in cui l'assessment, il report accuracy assessment, verrà generato direttamente. Potreste anche definire, cioè, dire in questo menu di non generarlo, ma non avrebbe senso farlo. quindi clicchiamo ok, e a questo punto viene generata la matrice di confusione, che è una finestra testuale, in cui abbiamo i nostri risultati, in cui voi vedete esattamente quello che abbiamo visto in teoria. Cioè, quindi, cominciamo a leggere il valore della confusion matrix per la classificazione a minima distanza, la prima che abbiamo fatto, genereremo anche le matrici di confusione per la classificazione parale epipedo, massima verissimiglianza e sum, faremo esattamente la stessa cosa, la prima che abbiamo fatto di ogni serie, in cui vedete, leggiamo questo report testuale. Questa è la matrice di confusione che viene generata a partire da questo file, e questa, vi ricordate, è l'overall accuracy, che vedete qua, è molto alta, 99,98, 44%, in cui il k coefficient, vedete, è esattamente, simile a questo, quindi 0,99,95, vi ricordo che il k coefficient varia tra 0 e 1, più è vicino a 1, più è curata la classificazione. Qua vedete che abbiamo la nostra matrice di confusione, valutata in pixel, cioè in numero di celle, e in percentuale. Poi abbiamo, vedete, gli errori di commissione e omissione con la producer accuracy e la user accuracy, sia in percentuale che in pixel, idem, però omissione e commissione. Quindi, fondamentalmente, guardate, guardiamo per esempio questa seconda, che è quella, ve la evidenzio, che è quella calcolata in termini percentuali, considerate che sulle righe, esattamente come vi ho fatto vedere nella lezione, abbiamo le classi dell'immagine classificata, e sulle colonne invece abbiamo le nostre truth, cioè quindi le celle che abbiamo incluso nelle nostre ROI di verifica, che è esattamente come andare a fare un campionamento a terra, perché avendo fatto una fotointerpretazione manuale, siamo assolutamente certi di quello che stiamo facendo. Quindi, a parte il non classificato che non compare in questa immagine, perché è zero, cioè in questa immagine non ho celle non classificate, avete visto, non ho messo nessun valore di soglia, sulla diagonale principale ho i valori correttamente classificati, quindi con l'accuratezza parziale. Quindi vedete che acqua, foresta e deforestato, tutte le celle incluse nella mia ROI-truth sono state interamente giustamente classificate, mentre invece per le nuvole ci sono un certo numero di celle, in particolare delle 759, che compare, delle 772 celle che ho preso come nuvola, 759 sono state classificate davvero come nuvole, mentre invece altre non sono state classificate come nuvole. E come sono state classificate? Sono state classificate fondamentalmente, credo, in altre classi, vediamo dove, vedete l'errore di omissione 1,68%, che sono i 13 mancanti, che sono andate nella classe nuvole, probabilmente, vediamo, se riusciamo a capire dove sono andate, sono andate probabilmente nella classe acqua, per cui vedete che, no, ecco, sono andate nella classe deforestato, eccola qua, l'1,68% è andato nella classe deforestato, la vedete? Eccola qua. quindi, per queste 13 celle, invece che essere classificate come nuvole, sono andate nella classe deforestato. E vedete, sono un errore di commissione, lo vedete, perché stanno su queste colonne. Quindi questo è il modo per leggere le nostre matrici, ok? Quindi vedete i risultati letti nella matrice di confusione, diagonale principale, quindi abbiamo anche le singole accuratezze per classe, in cui vedete che per l'acqua, la foresta e il deforestato è uguale al 100% l'accuratezza, per quanto riguarda la nuvole sono uguali al 98,32. E qua avete errori di commissione e omissione e la production producer accuracy e la user accuracy. Vista la prima matrice di confusione per la massima verissimiglianza, lasciamola magari aperta a icona, vediamo se riusciamo poi a ritrovarla, no, penso che sì, ok, ce l'abbiamo ancora, perfetto, a questo punto apriamo la matrice, la classificazione, vi ricordate che abbiamo fatto la scorsa volta del parallelepipedo, quindi andiamo nel menu principale, file open, andiamo a aprire il parallelepipedo, questo punto dat, il primo che abbiamo fatto, lo apriamo, lo visualizziamo, eccolo che abbiamo visualizzato, vedete, vi ricordate che in questo caso abbiamo anche il non classificato, a questo punto generiamo anche qua la matrice di confusione per questa classificazione, vi ricordo che la matrice di confusione si genera a partire dall'immagine a pseudo colori il risultato della classificazione, cioè questa, quindi andiamo a generare la matrice di confusione, scegliamo come input file, l'immagine a parallelepipedo, la classificazione, scusate, a parallelepipedo, selezioniamola, ok, le classi si matchano sempre, ricordatevi sempre di togliere quelle originali nel momento in cui le definiamo, cioè le eroi originali, lasciate solamente quelle che abbiamo usato per gli addestramenti, lasciate solamente caricate quelle truth, definiamo la matrice di confusione ed ecco che abbiamo definito anche in questo caso la matrice di confusione in cui vedete anche in questo caso magari per voi il risultato potrebbe essere differente, l'overall accuracy è sempre molto alta, 98%, il K coefficient 95% in cui se vado a vedere quella in percentuale perché mi è più semplice da vedere, vedete che in questo caso abbiamo una accuratezza diversa, ricordatevi che in ogni caso vedete cioè il risultato è molto diverso da prima ma ciò non incide sul risultato dell'accuratezza che vedete classe per classe vedete acqua 98%, foresta 99%, nuvola 97%, deforestato 99% e abbiamo dei non classificati che generalmente vedete sono tutti errori di omissione, li vedete anche qua, eccoli qua, perché stanno sulla riga in cui per esempio 1,95% che vuol dire 1293 cellula rispetto alle 65.000 estratte di acqua sono state non classificate ed è molto meglio che siano state non classificate come vi ricordate piuttosto che classificate come nella classificazione precedente, vi ricordate abbiamo un deforest, una classe che era andata in un'altra, mentre vedete delle 14 celle di foresta sulle 15.000 sono anche qua andate nel non classificato, idem le 23 celle di nuvole rispetto alle 5 celle di deforestato sulle 1045 che sono sempre andate nel non classificato, quindi vedete che l'accuratezza è questa, con la production accuracy ovviamente che è di questo ordine di grandezza, cioè che quindi è quella che leggiamo sulla diagonale principale in questo senso, ok? Quindi chiudiamo anche questa, apriamo a questo punto la classificazione a massima verisimiglianza che è questa, max like hood data, ok? Apriamola, vi ricordate quella che in realtà ha la maggior numero di non classificato, vediamo se ciò inciderà anche sull'accuratezza, quindi generiamo la matrice di confusione di nuovo anche su questa, sul maximum likelihood, diciamo gli ok, di nuovo i match di classe funzionano, diciamo gli ok, generiamo la nostra matrice ed ecco che vedete abbiamo questo risultato, vedete che l'accuratezza globale è solamente del 26%, il k coefficient è molto basso e vedete che in realtà la maggior parte delle celle vedete sono tutti errori di omissione perché sono tutti elementi non classificati, vedete che sulla diagonale principale la production accuracy è molto bassa, l'unica un po' alta è sulla nuvola che è il 65%, lo vediamo qua, però per esempio sull'acqua il 24%, sulla foresta il 29%, sul deforestato solamente il 30%. Abbiamo gli scambi di classe che sono tutte omissioni e sono tutte omissioni che cadono nel non classificato, così come ci aspettavamo. Ok? Apriamo l'ultima classificazione che è quella a SAM, quella che abbiamo chiamato SAM.dat, eccola qua, eravamo particolarmente soddisfatti, vediamo se anche nella matrice di confusione continuiamo a mantenere questa parziale soddisfazione, doppio clic su matrice di confusione, apriamo la matrice e la immagine classificata con lo spectra angle mapper, confermiamo, generiamo la matrice di confusione, ancora ok, ed ecco il risultato. Vedete che in realtà, come ci si poteva aspettare, abbiamo un'accuratezza del 65%, un K coefficient solamente dello 0,43%, perché vedete di nuovo, per esempio la foresta ha un'altissima accuratezza, così come ce l'ha molto forte anche le nuvole molto forte del deforestato, mentre vedete che l'accuratezza sull'acqua è relativamente bassa, cioè solamente il 56%, e in questo caso lo shift ce l'abbiamo sul non classificato, vedete che il 43, quindi il 43,29, cioè il complemento al 100% rispetto all'acqua, sta nel non classificato. Direi che comunque, indipendentemente da questo risultato, ciò che ne vinciamo è di avere una classificazione particolarmente buona per il semplice fatto che se non classifichiamo tutta l'acqua è perché l'acqua, e vi ricordo quella che non classifichiamo, cioè questa che vedete qua, evidentemente ha del, come abbiamo visto, in fotointerpretazione, osservandola, vi ricordate che qua le caratteristiche di riflettività sono molto diverse da queste, quindi è ragionevolmente significativo il fatto che non venga classificata perché le firme spettrali sono molto differenti di queste due classi e lo vediamo subito in questa classificazione, in cui vedete l'overola chiura sia bassa, ma in realtà è bassa per il fatto che l'acqua sia stata classificata in maniera diversa, perché vedete che in realtà foresta, nuvola, deforestato hanno delle accuratezze di classificazione particolarmente buone. Ok, vi ricordate questa classificazione, questa matrice di confusione della SAM, però a questo punto per completare il discorso, vi ricordo che noi abbiamo tante, abbiamo visto le diverse classificazioni, però vediamo adesso, quindi con le diverse matrici di confusione abbiamo visto come utilizzando le stesse ROI abbiamo dei risultati molto diversi sui diversi algoritmi di classificazione, quindi teoricamente questo ci consente di osservare quali siano gli algoritmi che funzionano meglio per il tema che abbiamo affrontato, però potremmo anche verificare utilizzando uno stesso algoritmo quali siano i risultati del calcolo dell'accuratezza con la matrice di confusione utilizzando diversi parametri di classificazione con lo stesso algoritmo di classificazione. Per fare questo quindi possiamo andare nel menu principale, aprire l'altra classificazione che abbiamo fatto cioè la SAM1 vi ricordate quella che prevedeva un maggiore angolo quello definito in radianti siamo passati da 0.2 a 0.3 per cercare di classificare un po' di più l'acqua quindi guardiamo questo risultato apriamo l'immagine SAM1 che è questa vedete che rispetto a quella precedente vedete sicuramente c'è una maggiore percentuale di celle classificate ok a questo punto generiamo la matrice di confusione anche per questa SAM1 eccola qua andiamo a cercare nell'input file sempre stessa combinazione come quella precedente stesso report generiamo il report e andiamo a vedere il risultato di questa classificazione e paragoniamolo con la matrice di confusione precedente e vedete che qua l'overall accuracy è molto più alta e dove qua avevamo problemi vi ricordate 56% verifichiamo che qua è diventato 97% ed è il 100% sulle altre tre classi quindi avete visto che semplicemente cambiando un parametro siamo riusciti a migliorare notevolmente l'accuratezza di questa classificazione quindi avete visto che le matrici di confusione le abbiamo utilizzate in due modi diversi nei primi quattro casi per verificare l'accuratezza di diversi algoritmi di classificazione in questo ultimo caso comparando queste due matrici per verificare quale sia l'accuratezza di classificazione dello stesso algoritmo di cui però abbiamo cambiato dei parametri di implementazione e in questo caso avete visto che il risultato è fondamentalmente diverso perché semplicemente cambiando quel parametro dell'ampiezza dell'angolo quindi considerando un intervallo di deviazione standard sulle firme spettrali più grande rispetto a quello precedente vedete che siamo riusciti rispetto all'eroi che abbiamo estratto a classificare molto meglio l'immagine ok quindi detto questo direi che per oggi possiamo ritenere concluso il nostro compito di classificazioni abbiamo visto anche le matrici di confusione direi che con questa esercitazione cioè con questa esercitazione numero 10 si conclude la parte che fa riferimento alla teoria perché le prossime due esercitazioni riguarderanno degli esempi applicativi rispetto ad applicazioni multitemporali è un'applicazione poi nell'ultima esercitazione completa che riguardi un caso di specie interessante vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo alla prossima esercitazione grazie a tutti Grazie a tutti.